Perché? Che cosa succede? Allora, vedete quell'immagine della Madonna con bambino e Santa Caterina d'Alessantia che dona l'anello al bambino? Praticamente questa immagine, prima della costruzione di questa chiesa, si trovava dove il pullman proprio si è fermato. Lì, non so se la nebbia, non so se vi siete accorti, il Colle di Todi praticamente ha tre cerchi congetrici di mura. Quello che avete visto voi adesso è quello più nuovo, quello medievale. Poi Salerno c'è Romano e ancora più in alto Etrusco-Romano. Allora, dove c'era questo ingresso? C'era una porta, perché era la porta della città. Vicino alla porta della città c'era un'editola, con questa madonnina, pitturata dall'anonimo. E la tradizione del tradizionale è stata sempre, o non è stata nascita dall'anonimo di Vale, la madonnina è sempre esistita. La tradizione che si dice che, poi ve lo faccio vedere, mi ha fatto vedere, è, se la tradizione, questa madonnina, non pare so che i cavalieri del Medioevo, e gli indica il posto dove si nascondeva un draco. Quando i cavalieri di Todi partono, la fine di questi dracos, quando mi danno, 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 mi danno. Mi danno, mi danno, mi danno, la tradizione la tradizione Quindi prende il quale in cui si asciugava gli occhi, lo passano, lo composero di qualsiasi l'occhio, lo prende la vista. In quel periodo avvengono tutti i ragazzi di ex-voli, ce l'avete ancora lì, vedete quella teca che viene a sinistra, sono ex-voli anatomici, perché in quel periodo avvengono tutte i ragazzi di un ragazzo, se non è caduta a cavallo, sono gamma. In quel periodo avvengono tutti i ragazzi di un ragazzo di un ragazzo di un ragazzo. Grazie. 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 Grazie.